Un onore, un piacere, una grandissima stand innovation, il primo posto, solo, l'unica, Loredana Bertè! Grazie, troppo carina. Loredana pazzesca su quel palco. Senti, quando hai visto che eri al numero uno, prima in classifica... Non ci potevo credere, perché arrivo sempre l'ultima. È il mio posto, l'ultimo posto. Tu lo sai che sei prima nel cuore di tutti i fan, di tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di tutte le radio italiane. Grazie, grazie mille. Veramente volevo ringraziare, approfitto della vostra bellissima radio. Grazie, grazie di esistere, come dice l'amico mio a Roma. Loredana, spiegaci un po' questa canzone meravigliosa, sembra cucita nelle tue emozioni. Praticamente parla della mia vita, come la vivo, l'ho vissuta, tra le montagne russe praticamente. Tutto scendere e salire, scendere e salire. Se fosse una pianura sarebbe un po' noiosa, no? Sì, un po' è vero. Un po' mi rifaccio a mango alla bravissima Angelina. E quindi, per voi che ti dica, io un periodo mi odio a morte. Infatti io non mi riguardo mai, da sempre questo, da quando ho cominciato a cantare. Perché non sono mai, non mi piaccio mai, non mi piaccio. Invece ultimamente un pochino mi amo, ma poco. Sto cominciando ad odiarmi meno, infatti lo dico, lo canto. Mi sono odiata abbastanza. Quindi adesso do un po' di fiato a questa rabbia, a questo odio che ho verso di me. E quindi cerco di odiarmi meno e di amarmi un po' di più. Ma assolutamente, Loredana, non so se ti ricordi, la tua scorsa partecipazione con la Stand Innovation ci siamo incontrate. 19? Eh sì. 2019. E mi hai dato dei consigli per avere le tue gambe pazzesche. Io ho dato dei consigli. Sì, mi hai detto fai ciclette, non mangiare cose salate. Sì, infatti mangio bene perché faccio praticamente la dieta mediterranea. Sono affamata da anni, premetto. E poi faccio la ciclette ogni giorno, scendo dal letto e c'ho la ciclette accanto. Un'ora di ciclette tutti i giorni. E come fai non piacerti? Anche ieri avevi delle gambe favolose. Ma non c'entra, io penso alla voce. Quel palco lì, la prima volta, io sono terrorizzata prima di uscire. E poi avevo dei piccoli problemi. Eh, tipo ti sentivi? No, è che c'ho sotto le gambe, sul pavimento, una luce che si accende ed è un inferno, un fuoco pazzesco che mi sale fino alle tonzille. Non riescono a sapere qual è il problema. Ma io ogni sera c'ho questo fuoco ardente che mi sale su. Ma è fuoco vivo. Ho detto, oddio, oddio, vado a fuoco. Sto a pensare. Infatti ieri ho sbagliato pure una parola. Perché andava a fuoco, mi sono guardata sotto e mi sono inventata la parola all'istante. Ma non trovano ancora il problema. Io anche stasera c'erò questo fuoco e mi scanserò. Farò così? Non lo so. E sposteranno tutte le telecamere loro per adeguarsi a te? Chi se ne importa. Però io dentro al fuoco mi sono rotta un po' le scatole. Venerdì speriamo che si risolva questa cosa perché ce l'ha stata del cuore. C'è il duetto e lì ci tengo in maniera pazzesca. E poi ti sono arrivata a Sanremo per cantare ragazzo mio. Allora, raccontiamo un po'. Con Venerius, che è una bomba, un chitarrista pazzesco. E l'arrangiamento, che gli vuoi dì? A Fossati? Niente. Fossati, un omaggio a Tenko. Fossati, l'arrangiamento, l'omaggio a Tenko. Ah sì, già nel 84? Eh. Ecco. Norredana, senti, hai calcato questo palco per diversi anni. Sei stata un'icona e continui ad esserlo di stile. Ma ci tenevi ad essere in questo Sanremo di Amadeus? Ci tenevo moltissimo perché in cinque anni che ha fatto il festival, praticamente io ho fatto solo l'ospite. L'ospite d'onore. E l'ultimo con, che cosa vuoi da me, era Baglioni. E quindi è stata la prima volta in 12 volte che sono arrivata quarta. La mia comfort zone è ultima. Questa è sempre stata così. Quindi ieri sera mi sono mancate le parole, stavo in albergo, meno male che ero già stesa sul letto. E quindi sono quasi svenuta all'annuncio di Amadeus. Quindi non so che dire, ringraziare è poco per me. Vorrei fare di più, non so, farvi una pasta come facevo con Andy Warhol. Eh, tipo? Tipo che pasta? Ma una svelta, pomodoro e basilico, pomodoro e basilico e tonno. Oppure alle vongole. Ma vorrei fare qualche cosa, un dolce, qualcosa per i ragazzi della sala stampa. Grazie, grazie, grazie.